Doveva essere un normale sabato mattina quando accompagnato da sua nonna un giovane 22enne di Canosa tornava nella sua ex scuola per incontrare i suoi professori ed invece si è trasformata in tragedia. E' accaduto questa mattina poco dopo le 10 quando il giovane è entrato all'interno dell'istituto Einaudi di Canosa e si è sentito male. Accasciandosi al suolo immediato è stato l'intervento degli operatori scolastici e tempestivo l'arrivo dell'equip sanitaria del 118 di Canosa che ha lavorato per lunghi minuti nella speranza di rianimarlo anche con l'ausilio del defibrillatore. Diverse scariche ma il cuore del giovane non ha ripreso a battere. Morte naturale secondo lo medico legale, necessario anche il trasporto in ospedale per la nonna del giovane anche lei colta da malore per l'accaduto. Intervento e rilievi coordinati dal commissariato di pubblica sicurezza di Canosa.